ciao a tutti stavo chiudendo la manica di questo maglione col genis band off quando mi sono resa conto che non ero molto comoda nel farlo non mi era molto semplice per cui ho pensato come potevo diciamo così modificare questa chiusura in maniera che mi risultasse più semplice più veloce da chiudere adesso vi faccio vedere come ho fatto la chiusura originale a dritto è così si lavora una maglia si getta a rovescio si lavora un'altra maglia e si accavallano la maglia e il gettato sulla maglia appena lavorata quindi un gettato a rovescio si lavora dritto e si accavallano getto a rovescio lavoro a dritto e a cavallo però non mi era non mi era molto comoda quindi cosa ho pensato che la stessa chiusura la potevo realizzare con l'uncinetto e quindi tolto il ferro uno solo mi raccomando ho preso l'uncinetto e ho fatto esattamente la stessa cosa che facevo con i ferri quindi un gettato a rovescio lavoro questa maglia e con l'uncinetto chiaramente non a cavallo ma è come se facessi una maglia normale ad uncinetto quindi gettato a rovescio lavoro una maglia e a cavallo gettato a rovescio lavoro una maglia e a cavallo gettato rovescio lavoro una maglia ops scusate lavoro una maglia e a cavallo adesso finisco tutti i miei le mie maglie tutta la mia chiusura e vi faccio vedere ok ho finito di chiudere questa è la chiusura fatta col metodo originale e questa è la chiusura fatta con invece l'uncinetto sono identiche me le metto così mamma a confronto sono identiche e sono elastiche tutte e due cioè proprio non c'è non c'è differenza aspettate che ve le avvicino magari le vedete meglio speriamo sia fuoco e mi trovo molto molto meglio con l'uncinetto sono più veloce sono più comoda io spero che questo video vi sia piaciuto per seguire i miei prossimi video cliccate iscriviti e la campanella e alla prossima ciao